Oltre 400 iscritti seduti attorno a 20 tavoli per confrontarsi su 10 temi legati allo sport in Toscana. È il colpo d'occhio della prima conferenza regionale dello sport organizzata dall'Assessorato al diritto alla salute, welfare e sport della Regione Toscana allo spazio reale di San Donnino a Campi Bisenzio. I luoghi dello sport, l'integrazione e l'inclusione sociale, la formazione degli operatori, ma anche i rapporti con la salute, con l'economia e con i valori etici. Questi temi affrontati nell'intensa giornata di lavoro aperta dall'Assessora regionale Stefania Saccardi perché se nel 2016 due Toscani su tre, più della media nazionale, hanno praticato un'attività sportiva vuol dire che in Toscana lo sport c'è, funziona, ma che deve anche essere preservato con le giuste azioni. Abbiamo pensato che potesse essere una buona occasione mettere tutti gli operatori, dalle società sportive, agli insegnanti, al mondo della scuola metterli intorno a dei tavoli per lavorare, elaborare proposte, dare dei suggerimenti e quindi per darci un quadro più approfondito del mondo dello sport e di tutto il volontariato che ci dà intorno. I numeri dello sport in Toscana descrivono un quadro incoraggiante con tanti toscani che praticano attività sportiva anche in presenza di problemi di salute. Nei tavoli si è parlato anche dei 6.210 impianti sportivi che risultano dall'ultimo censimento il 65% dei quali di proprietà pubblica. Qui delle criticità ci sono e la conferenza è stata l'occasione per parlarne. Su questo forse tutti bisognerebbe fare di più. La regione toscana anche quest'anno ha 2 milioni di euro in bilancio per sostenere l'impiantistica sportiva ha messo 500 mila euro per sostenere le manifestazioni sportive e ha cercato di portare in regione toscana anche grandi eventi sportivi di sport che hanno forse minore visibilità di altri. Le voci dei partecipanti alla conferenza regionale sullo sport insieme ai risultati della giornata esposti nella sessione plenaria finale serviranno ora a elaborare le strategie e i progetti per migliorare sempre di più la qualità dello sport in Toscana. Grazie a tutti.